qui nel post partita del match mag contro acilia bulls con i grandi protagonisti al capitano simonetti tripletta e anche con il mister di bulls buonasera e complimenti a tutti grazie allora voglio un commento prima chiaramente dal capitano che è stato protagonista con questa tripletta sei soddisfatto potevano essere anche più gol anche nel finale insomma poter arrivare la quaterna si diciamo siamo soddisfatti per il risultato finale la vittoria troppe occasioni sprecate soprattutto da parte mia ci rifaremo siamo pronti per questa nuova stagione l'altro anno abbiamo sfiorato la qualificazione in serie a quest'anno puntiamo ad arrivarci ecco mister inizio subito con il botto chiaramente l'obiettivo è quello di raggiungere se possibile la serie a dove può migliorare ancora questa squadra ma quest'anno abbiamo fatto grossi miglioramenti diciamo abbiamo preso gente importante su vari reparti abbiamo completato la squadra e siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura tutti quanti insieme puntando sempre all'unico obiettivo a vittoria ecco al di là insomma dell'obiettivo promozione invece il tuo qual è insomma di raggiungere quota dato che già siamo partiti a quota tre gol guarda non mi prefisso un obiettivo l'importante risultato di squadra se poi i miei gol fanno vincere la squadra sono contento mister un aggettivo per descrivere invece simonetti questa sera fenomenale chiudiamo così grazie ragazzi in bocca al lupo per la stagione